del ufficio beni strumentali dell'Istituto per il Commercio Estero, oggi con la nostra nuovo logo ITA Italian Trade Agency. Ringrazio la Regione Puglia per averci invitato e per averci permesso anche qui in questo momento, in questo consesso così importante, di fare la nostra parte come Stato, come ente governativo che cerca di aiutare la promozione all'estero dei, nel mio caso, dei beni strumentali. Sarei curioso di sapere quanti oggi, non tra gli addetti ai lavori e gli organizzatori, ma tra gli altri, sanno che oggi l'Istituto Commercio Estero Italian Trade Agency è presente con una delegazione di 20 buyer dall'estero. Ve lo abbiamo invitato da diversi paesi buyer selezionati dai nostri uffici all'estero, buyer provenienti da Tunisia, Marocco, Israele, UK, Polonia principalmente, per conoscere le imprese manufatturiere presenti qui oggi al Mediterranean Aerospace Meeting. Quello che facciamo come Istituto Commercio Estero è quello che facciamo da cento anni. Il Governo ci dà finanziamenti annualmente per agevolare l'export e lo facciamo principalmente, oggi è un caso che siamo a un congresso, principalmente lo facciamo con le fiere. Vi porto i saluti del Presidente Matteo Zoppas, il Presidente dice, molto attento al settore aerospazio, partecipo con lui a diverse riunioni proprio con gli stakeholder, i portatori di interesse e le principali associazioni di categoria di questo settore e l'attenzione è sempre alta per capire cosa vogliono le imprese, in quali paesi vogliono essere presenti, dove vogliono il nostro aiuto e quali sono le criticità. Qualche dato, come vi dicevo, la missione dell'ICE è sostenere le aziende, in particolare le PMI, facilitando la possibilità di incontrare partner commerciali. Lo facciamo nel settore aerospazio, partecipando a numerosi eventi, tra cui i grandi saloni, Farmborough, Le Bourget, gli airshow come Dubai Airshow e le business convention come Aeromart Toulouse e organizziamo gli incoming, oltre agli eventi che si tengono in Italia con l'organizzazione di business forum e visite industriali. Nel settore aerospazio, nel 2023 abbiamo organizzato 30 iniziative. Il nostro impegno, la nostra speranza è quella di portare nel mondo le eccellenze del Paese, tra cui l'aerospazio è un settore di punta. L'Italia si conferma nel 2023 il quinto Paese come export dopo Francia, Regno Unito, Germania e Spagna, la nona a livello mondiale, nella classifica dei principali esportatori del settore, qualcuno aveva dato già qualche numero prima, un fatturato di 13 miliardi di euro nel 2022 e un export di 6,5, quindi più della metà è diretta all'export e quindi a noi ci fa molto piacere perché la nostra mission è proprio quella. L'aerospazio rappresenta un fiore all'occhiello. Circa due terzi del settore aerospazio italiano sono costituito da imprese che producono aeromobili e sono di dimensioni piccole e medie. Le dimensioni delle imprese non ci devono spaventare perché intanto nel settore aerospazio sono assolutamente in linea con tutti gli altri settori produttivi del Made in Italy e così come abbiamo visto negli altri settori, che non seguo personalmente ma che sono i beni di consumo o l'agroalimentare, la dimensione media e piccola comunque si fa valere in modo molto efficace sui mercati internazionali. La New Space Economy rappresenta un driver di crescita strategica a cui l'Istituto per il commercio estero dà una grande attenzione. La New Space Economy ha innescato un profondo cambiamento attraverso abbattimento di costi di ingresso e permettendo anche a PMI o start-up di evolvere, sperimentare e accelerare. L'attenzione che abbiamo per le start-up è molto alta dal lato nostro. Basti pensare che le start-up non solo nel settore aerospace ma in tutti i settori vengono alle nostre fiere, alle fiere dove ICE partecipa con denari pubblici per agevolare l'export, le start-up partecipano gratuitamente. Come vi dicevo siamo presenti qui con circa 20 delegati, l'impegno lato promozione è sempre elevato. Il messaggio che voglio lasciarvi è che l'Istituto commercio estero e le istituzioni centrali a livello di promozione e di aiuto alle imprese ad esportare ci sono e continueremo a fare con l'aiuto degli imprenditori che ci vogliono seguire sempre di più e sempre meglio.